Ciao, sono Giovanni Arena e sono un travel creator, condivido contenuti legati ai viaggi su TikTok e in questo momento siamo proprio sul bus elettrico che ha creato TikTok e che ha voluto portare qui in Via Vittorio Pisani per celebrare il Pride, perché qui a Milano oggi è 2 luglio e stiamo tutti celebrando il Pride, chi celebra il Pride celebra la libertà. Oggi è un grande giorno di inclusione e io non vedo l'ora di festeggiare.